Buongiorno a tutti dal vostro grande Capitan Napoli e sempre Forza Napoli, ancora buona Pasqua a tutti quanti. Benvenuti in questo nuovo video, meno uno ad Napoli-Atalanta che si giocherà domani sera nel nostro tempo del calcio alle ore 19, valevole per la trentatresima giornata di Serie A. Dobbiamo cercare di smaltire la grossissima maresa delusione dalle eliminazioni in Europa League di giovedì. Secondo me Napoli deve cercare cosa manca alla fine del campionato, cercare di chiudere il primo possibile, secondo in Serie A, in maniera più dignitosa possibile tutte e cinque le partite e Ancelotti che comunque ovviamente lo stava già facendo prima per capire adesso al 100% quali giocatori dovranno rimanere per fare un grande Napoli e quali invece, tra virgolette, dovranno fare le valigie. Questa potrebbe essere la probabile formazione del Napoli, secondo me dovrebbe giocare Ospina in porta, difensori centrali, Colibali, Luperto o Chiriches. I due esterni, secondo me, giocheranno Malcuit e Edmar Rui, i due di centrocampo molto probabilmente rimarranno sia Fabian Ruiz e sia Lan. Gli esterni potrebbero giocare dal primo minuto sia Unas sia Verdi ed in attacco potrebbero, secondo me, giocare Mertes e Milik. Vi riagorio di nuovo un buon proseguimento di giornata dal vostro grande capitano Napoli. Speriamo appunto di una bella partita di domani sera. L'Atalanta è una squadra che gioca bene, quindi insomma, non sono molto... Sì, sono abbastanza felucioso, ma la temo l'Atalanta perché è una squadra che gioca veramente bene e ha dei buoni giocatori. Vi riagorio di nuovo un buon proseguimento di giornata dal vostro grande capitano Napoli. Mettete un bel like a questo video. Chi non si è ancora iscritto al mio canale, iscrivetevi, iscrivetevi al mio canale, sempre e comunque solo a Forza Napoli. Ciao a voi.